Ma è un personaggio, lei è una donna un po' avanti con l'età, probabilmente una bellissima donna, un po' infantile, un po' leggera, un po' presuntuosa forse in fondo perché va soprattutto buona, ancora si veste, capito, come una ragazzina, ama la vita ma soprattutto ha bisogno di amore, di tanto amore e di tanto affetto e lo si vede, questo è il ritratto secondo me di questo personaggio.